Via Libera della Giunta, Chieti candidata a Città Europea dello Sport 2025. Riteniamo di avere tutti i requisiti, con questa delibera abbiamo dato il via all'ITER, Città Europea dello Sport. È un premio di ACES Europe, partner UNESCO, un riconoscimento importante che darebbe grande slancio alla nostra città e soprattutto un grande indotto economico per il tessuto ricettivo cittadino. Siamo una città a vocazione sportiva, da due anni e mezzo a questa parte abbiamo provveduto a una riqualificazione strutturale e gestionale dell'impiantistica sportiva della nostra Chieti, riteniamo appunto di potercela giocare. Chieti ha ospitato grandi eventi e soprattutto un grande centro nazionale. Certamente, abbiamo in questi due anni e mezzo ospitato grandi eventi sportivi di carattere internazionale e nella nostra città c'è il centro tecnico federale della Federazione Italiana Gioco Handball grazie a una nostra azione in sinergia con la federazione, nel nostro pala Santa Filomena sono stati investiti dalla FIGH oltre 500 mila euro, una struttura completamente riqualificata, un fiore all'occhiello della nostra città. Investimenti che interessano e interesseranno altri impianti sportivi? Certo che sì, perché abbiamo anche intercettato diversi finanziamenti, abbiamo efficientato lo Stadio Angelini adesso insieme al collega Lispori abbiamo centrato un importante finanziamento nell'ambito del PNRR con il quale realizzeremo una cittadella dello sport outdoor nei pressi dello Stadio del Baseball con campi polivalenti, percorso vita in natura e uno skate park e poi stiamo efficientando a livello energetico il pala Colledellar, il tutto con un milione e mezzo di euro appunto di finanziamenti. Insomma, guardate a questa candidatura con grande fiducia. Certamente, siamo convinti di potercela fare.